Ma secondo te se ne accorge qualcuno che faccio video? Che cosa succederebbe se il mondo resterebbe senza commenti restasse? I commenti restasse sono importantissimi per l'uomo. Infatti, scendono i commenti, fanno girare i video, rendono belli la sezione commenti e non solo, creano diatribe, fanno non capire se non si è capito e permetterebbero il trasportarsi di petrolio biologico delle petroliere a metano. Ma prima di andare avanti dovreste seguirmi perché così aiuterete il mio canale a crescere perché, boh, non lo so, ma provate. Quindi, che cosa succederebbe se il mondo resterebbe senza commenti restasse? Dopo 5 minuti, boh, dopo 15 minuti, TikTok e dopo 88 minuti, la sezione commenti restasse vuota. Ma papà, perché rettorebbe invece che rettasse? Comunque, se ti è piaciuto questo video, puoi mettere mi piace e condividerlo agli amici. Challenge! Per ogni resterebbe commentato a un restasse e restasse commentato a un resterebbe e così all'infinito pianterò una foresta di resterebbe nei paesi bisognosi di restasse. Comunque, puoi vedere la serie completa di cosa succederebbe se il mondo resterebbe sul mio canale YouTube o in modo molto confusionale su TikTok. Nei prossimi episodi parleremo di sole, api, mangrovie. Che cosa vorresti vedere per primo? C'è lo farcelo sapere nei commenti e non scordare di scordarti del canale per perderti i prossimi episodi di Canale Test, dove l'inutile diventa ancora più inutile.